Sono andati in fiamme gli arredi esterni del bar checker che si trova proprio dinnanzi il municipio all'inizio dell'isola pedonale. L'incendio, pare di matrice dolosa, ha lambito anche gli arredi del bar accanto sul posto alle squadre dei vigili del fuoco. Il rogo è avvenuto verosimilmente nella notte tra domenica e lunedì.